Buongiorno a tutti, in questo canale abbiamo spesso incontrato la figura di Mario Roatta, generale particolarmente eclettico, controverso potremmo dire, diciamo poi alla fine di controverso c'è veramente poco visto e consigliato che i suoi comportamenti in varie occasioni hanno dimostrato subito la capacità di un uomo di riuscire a districarsi e fare carriera molto spesso solo grazie alla propria capacità di intrigo, di saper muovere le leve giuste al momento giusto scalzando anche gli avversari magari pretendenti più meritevoli di lui nei vari incarichi. Ma il video di oggi affronta un momento decisivo della propria carriera, ossia la sua seconda destituzione come capo di Stato Maggiore dell'Esercito nel novembre del 1943. Roatta che aveva rivestito già il ruolo facente funzioni di capo di Stato Maggiore dell'Esercito da luglio del 1940 fino al febbraio del 1941 quando sostituiva di fatto a Roma Rodolfo Graziani impegnato in Africa settentrionale, poi per un anno fu egli capo di Stato Maggiore dell'Esercito, poi passò prima in Jugoslavia al comando della seconda armata, poi divenne comandante della sesta armata in Sicilia per tornare in grande spolvero dopo aver tra l'altro subito diciamo le invettive di uomini come Cavallero, come tutto l'entourage che faceva capo a Cavallero visto il consigliato che Roatta era considerato il capo cricca dei cosiddetti spagnoli quindi in qualche modo dopo l'ascesa di ritorno di Cavallero nella primavera del 1942 a Roma dopo il suo impegno in Albania risultò inevitabile che anche la testa di Roatta prima o poi cadesse. Ebbene comunque Roatta era riuscito a risorgere, tornò nell'estate del 1943 come capo di Stato Maggiore dell'Esercito, riuscì in qualche modo a superare i traumi del 25 luglio, dell'8 settembre non senza gravi responsabilità a lui addebitabili dopo quelle che aveva già collezionato negli anni precedenti ma arrivò anche per lui il momento dei conti, in realtà furono dei conti assolutamente parziali perché si concludeva la carriera militare ma tutte le pendenze potenziali o effettive di ordine giudiziario sarebbero grossomodo tutte calate, tutte quante andate a spegnersi da loro sia per il fatto che egli fuggì dall'ospedale carcere in cui era ricoverato, rinchiuso e riuscì comunque a sfilare, a riuscire a nascondersi prima grazie alla diplomazia vaticana e poi grazie al governo spagnolo con cui era onestamente un grande afflato sin dall'epoca appunto della guerra civile. tornò in Italia dopo la finita la burrasca dopo che appunto delle sentenze anche di assoluzione ma più che altro di sconti di pena, di amministia avevano in qualche modo andato a depotenziare qualsiasi possibile attacco o responsabilità giuridica a lui additabile. ma torniamo invece al discorso del novembre 1943, la situazione è particolare, il governo di Brindisi con gli annessi, le propaggini della monarchia e delle forze armate sono alquanto deboli, hanno pochissimo potere negoziale, il potere negoziale era presso che è nullo e di conseguenza si trovarono sempre in balia di questa cosiddetta cobelligeranza che non aveva nessun crisma di nessun tipo di vicinanza con una possibile alleanza con gli alleati appunto, ma diveniva una subalternità dettata anche dalla commissione alleata di controllo che in qualche modo dettava il bello e il cattivo tempo sotto l'aspetto non solo militare ma anche quello di ordine civile e governativo. Ma andiamo a leggere cosa scrive Paolo Puntoni, l'aiutante di campo del re, che l'otto novembre 1943, così annoda nel suo diario. La missione alleata ha chiesto per iscritto la testa di Roatta che si trova ricoverata all'ospedale di Marina per un incidente automobilistico. Alcuni giorni prima Roatta aveva avuto effettivamente un incidente automobilistico piuttosto grave che gli avrebbe comportato una serie di fratture, una serie di postumi particolarmente anche fastidiosi che vengono poi tra l'altro enumerati nel suo diario che avremo modo di leggere fra poco, mettendo un aspetto clinico che non ci interessa e quindi si trovava in una situazione fisica particolarmente disagiata. Quindi questa lettera da parte delle autorità alleate che appunto mostravano un certo fastidio per la persistenza di Roatta come capo di Stato Maggiore dell'Esercito. La lettera fa seguito a una richiesta verbale di alcuni giorni fa. Non c'è nulla da fare, bisogna cedere. Sua maestà mi incarica di parlare con Badoglio per decidere chi debba succedere a Roatta. Si pensa a Francesco Rossi. Francesco Rossi, generale dell'esercito, generale di corpo d'armata, già sotto capo di Stato Maggiore dell'Esercito, già sotto capo di Stato Maggiore generale sotto Ambrosio, quindi con Ambrosio aveva avuto una lunghissima collaborazione e in questo momento si reputa la persona più indicata per mantenere una transizione ma che potesse in qualche modo anche creare una cesura. In realtà, come sappiamo, la scelta verrà indirizzata verso altro ma in questo momento sembrava la scelta giusta. Ambrosio per il momento potrebbe restare al suo posto. Anche Ambrosio è un vigilato speciale perché sostanzialmente vengono messi nel milione questi due generali. Non tanto perché rappresentano il passato, un passato anche vicino alla guerra fascista, ma più che altro perché in quel momento costituendo il governo jugoslavo dei partigiani di Tito acquista un grosso peso all'interno degli equilibri degli alleati e muovono e spingono gli alleati occidentali verso il tentativo di mettere alla sbarra tutta una serie di personalità di vertice italiane, militari italiane o anche civile. perché nel 9 ci sarà anche Bastianini che in qualche modo verrà tenuto sotto osservazione per cercare in qualche modo di chiarire le responsabilità di ordine morale, civile, giudiziario per tutta una serie di atti criminosi che vennero a crearsi in Jugoslavia. Per il momento però Ambrosio sembra non essere toccato. Per Messe si potrebbe creare la carica di ispettore generale. Come sappiamo in realtà Messe sarà la carta segreta e da lì a pochi giorni verrà indicato come nuovo capo di stato maggiore generale. Sorice resterebbe ministro della guerra a Roma dove esplica attività clandestina con l'incarico di preparare la situazione per l'arrivo delle truppe di liberazione. In realtà sappiamo che le truppe di liberazione ci metteranno qualche mese. A chiusura così giusto per dire il 9 novembre ieri insieme con i generi Orlando Berardi è giunto a Brindisi il maresciallo Messe. Sappiamo che questo trittico rappresenterà le nuove istituzioni militari del Regno del Sud. Quindi in qualche modo quel tentativo, quel desiderio degli alleati di voltare pagina viene attuato proprio partendo da tre elementi che in qualche modo sembravano lontani dalle grandi manovre degli ultimi mesi nei palazzi di Roma. Messe liberato dalla prigionia dagli alleati. L'arrivo di queste tre personalità militari mette decisamente sul tappeto la questione del loro impiego in relazione al richiesto allontanamento di Roatta e alla traballante posizione di Ambrosio contro il quale a breve scadenza gli angloamericani sferranno un'altra offensiva. E quindi Sua maestà riceve Messe, generale Orlando e Berardi eccetera eccetera eccetera. Quindi questa è la versione della corona grosso modo che prospetta questa necessità questa richiesta degli alleati che in qualche modo va ovviamente esaudita non ci sono alternative come lo stesso Puntoni ha precisato. Ma andiamo a vedere la versione di Roatta dal suo diario 6 settembre 31 dicembre 43 a cura di Francesco Fochetti di Mursia questa è la prima volta che parliamo di questo volume. Allora arriviamo al 9 novembre quindi siamo in simultanea con quanto raccontatoci da Puntoni nei giorni precedenti Roatta non ha mancato a partire dal 4 novembre di raccontarci tutte le sue varie sciacure di salute dopo questo tremendo incidente automobilistico quindi non si è ancora rimesso anzi diciamo che ci racconta che l'8 novembre ci racconta che deve ingessare tutte e due le gambe quindi si trovava in una situazione particolarmente disagiata e dopo questa situazione particolarmente disagiata sotto l'aspetto di salute arriva questa altra randellata non so se se l'aspettasse però diciamo che alla fine diciamo i conti si fanno con l'oste e l'oste alleato è arrivato 9 novembre nel pomeriggio nel momento in cui finisco una buona dormita giunge Ambrosio il quale mi comunica che i governi alleati data la guerra inumana tra virgolette che mi è attribuita hanno chiesto che io sia esonerato dalla carica di capo di stato maggiore allontanato dal servizio attivo ed invitato a soggiornare in località lontana da quella sede del governo tale notizia che lascia presupporre eventuali intenzioni ancora più gravi mi dà una forte scossa Badoglio ha scritto una lettera chiedendo che prima siano esaminate le accuse Mank Farlane che è un generale britannico membro della commissione di controllo quindi ha un ruolo apicale all'interno della commissione di controllo che appunto è il principale interlocutore delle istituzioni politiche militari italiane in quel momento è andato a rispondere che non si ha intenzione di fare inchieste ma che si insiste sulla mia defenestrazione quindi in questo qual modo per il momento si stempera un po' la situazione si fa intendere che soltanto l'aspetto simbolico l'aspetto di capo tecnico dell'esercito deve essere sostituito per una questione di opportunità non vengono per il momento dalla lettura che le dà a Roatta o almeno la lettura che viene fornita a Roatta delle possibili ancora delle implicazioni di ordine giudiziario Ambrosio con molte buone parole mi dice che posso mantenere con me gli ufficiali che vogliono che voglio macchine eccetera le famose brebende naturalmente alla sera mangio appena prego il tenente Ruffeni di dormire nella mia camera in previsione di rimanere sveglio è dolorante ha problemi di diambulazione viceversa grazie a Dio dormo abbastanza a lungo e tranquillo alla sera un po' di febbre allora premesso che il 6 novembre Roatta ci dice che alla sera ha sempre un po' di febbre 37 37 un po' di febbre va vabbè come direbbero le donne è un uomo quindi 37 ha la febbre 10 novembre preparo una lettera in cui chiedo che il governo mi sostenga non basta proporre un'inchiesta occorre prendere posizione negando le accuse del tutto infondate io non sono accusato di fatti personali commessi in un'isola lontana e deserta io ho agito agli ordini del comando supremo e del governo alle porte d'Italia e tutto ciò che ho fatto era ed è perfettamente noto allora diciamo che questo elemento del comando supremo il comando supremo all'epoca dei fatti addebitati era comandato da Cavallero sappiamo Cavallero che ha già fatto una brutta fine quindi in qualche modo le responsabilità vanno a scendere non potendo accusare Mussolini che è fuori dai giochi o almeno si trova in un'altra situazione non potendo accusare più Cavallero che pure lui è morto le possibili attacchi possono essere confronti di Ambrosio e di Roatta che in quei momenti hanno potuto agire come più alti in grado nella realtà della Jugoslavia o a Roma e riuscendo sempre a aumentare di posizione quindi Ambrosio da comandante della seconda armata a capo di destra maggiore esercito poi capo di destra maggiore generale situazione parzialmente simile quella di Roatta che era già stato capo di stato maggiore dell'esercito comandante della seconda armata poi dopo è ritornato a essere capo di stato maggiore dell'esercito quindi in qualche modo questa avventura abbastanza controversa dell'esperienza Jugoslava aveva comunque garantito a entrambi una prosecuzione nella carriera quindi onestamente da un certo punto di vista Roatta ha le sue ragioni dall'altro sono poco poco contestualizzabili poco si basano veramente sul nulla quindi io agito agli ordini del comando supremo eccetera ma poi quindi ha scritto questa lettera in cui cerca di 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 ingraziarsi il governo cerca di di trovare in Badoglio una sponda sappiamo che Badoglio come uomo e come politico e generale era un tipo che cercava in tutti i modi di salvare la propria pelle e cercava di salvare la propria pelle anche a discapito degli altri quindi avrebbe speso veramente neanche un centesimo per difendere Roatta se questa spesa potesse in qualche modo creare un pregiudizio a lui stesso ma poi non la spedisco quindi questa lettera non la spedisce Roatta e la sostituisco con una lettera privata d'ambrosio in risposta a una sua molto amichevole oltre a questa ricevo una lettera ufficiale che mi esonera perché inabile per parecchio tempo a seguito del noto incidente quindi viene posta la condizione di infermità come causa ufficiale della destituzione di Roatta lunga visita di Messe rientrato insieme a Berardi e Orlando ecco qua arrivano i tre i tre nuovi che un po' spazzano via tutto il vecchio Radio Londra che ha detto ieri essere io temporaneamente invalido a causa di un incidente automobilistico dice oggi che un ministro alla Camera ha dichiarato il governo britannico ha chiesto al governo Badoglio di esonerare dalla carica di capo di stato maggiore dell'eserci il generale Roatta accusato di atrocità in Jugoslavia una inchiesta minuziosa tra parentesi punto intolativo immagino che sia appunto un commento dello stesso Roatta ha dimostrato la fondatezza delle accuse l'inchiesta sull'operato del generale Ambrosio è tuttora in corso ecco quindi come anche Ambrosio abbiamo la conferma che è un sorvegliato speciale questo lascia prevedere una prossima richiesta di sostituzione anche per lui eh infatti cambio di camera salendo al piano superiore in una camera d'angolo con bella doppia vista riappare la febbre 37,2 ecco per qualche ora nel pomeriggio fatto dovuto certo ai dispiaceri e preoccupazioni di questi giorni 11 novembre lascio la carica di capo di stato maggiore ecco quindi come in una sorta di progressione e di inevitabile accelerazione si va un po' a creare la liberazione il rimpatrio dei tre messe Orlando e Berardi come possibile contraltare a quello che è stata la gestione politica militare degli ultimi mesi e si va in qualche modo a voler colpire poi in realtà sappiamo che a livello giudiziario questo non avverrà o non avverrà in maniera esecutiva e cercare appunto di prendere due piccioni con la fava ossia riuscire a rinnovare tentando di insinuare inserire nelle alte girarchie politico-militarie italiane degli elementi di onestà indiscussa che comunque erano stati catturati perché combattenti fino all'ultimo in Tunisia con delle esperienze che erano stati mandati allo sbaraglio proprio da uomini come cavallero come in qualche modo atta no perché ancora non era tornata però diciamo di un clima di intrigo di azioni poco simpatiche poco pulite che in quel momento venivano rappresentate da personaggi come Roatta e come Ambrosio oltre ovviamente a tutto quello che avevano fatto in Jugoslavia quindi non potendo più dare responsabilità a cavallero in qualche modo loro che erano gli inevitabili successori sotto l'aspetto anche tecnico sotto l'aspetto di gestione della guerra con tutto ciò che ne è conseguito rappresentava anche il tentativo da parte del governo Badoglio e della Corona di dimostrare la propria buona volontà nel fare piazza pulita di tutto ciò che era di negativo delle istituzioni militari detto questo come al solio vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale alla prossima ciao